Allora, attenzione, questa sera finalmente saremo Gigio D'Ambrosio, Laura Ghislandi a condurre come sempre il loro orario, le incursioni del Conte Galei, di Paolo Cavallone, di Mara Maionchi, di Alberto Salerno, grande scrittore, grande poeta, nonché marito di Mara. Forse torna anche Dindondandolo, si ha ritrovato la voce stasera. Noi, in chiusura, il ringraziamento ufficiale va al vecchio amaro del capo, il nostro amaro italiano. Mi dica, che ne pensa lei del capo, Conte? Ma cosa vuole che ne pensi? Io quando sento parlare del capo, perdo subito la testa, guardi un po', e non vedo l'ora di farmene uno ghiacciatissimo. Eh, lo so, lei è il solito godereccio, ma come darle torto? Anch'io adoro il capo, eh? Il capo è proprio il nostro amaro italiano. Stia attento a quello che fa, sennò diventa lei un ghiacciolo. Mettono a me nel freezer. Conte Galei e Paolo Cavallone, a questa sera o domani le 13 per Miseria e Nobiltà. Au revoir. Ciao. Ciao.